Non escludo che Bembo, nel tentativo di colpire o disarmare Iannuzzi, si sia inavvertitamente avventato contro la lama o abbia forzato i movimenti dell'arto superiore di Iannuzzi. In ogni caso, nel corso di una colluttazione, tutto deve essere contestualizzato. E' questo uno dei passaggi della relazione dei consulenti, la difesa di Nico Iannuzzi e Luca Sciarrillo, redatta dal medico Valerio Mastroianni. Presso l'aula da Sise, il tribunale di Avellino, è ripreso il processo per l'omicidio di Roberto Bembo, un'odienza quest'ultima molto breve. Secondo il perito, appare necessario specificare che la forza viva produttiva delle lesioni d'arma bianca e da intendersi come energia cinetica di non notevole entità, la cui concreta attitudine lesiva, deve riferirsi ai reciproci movimenti degli attori nel corso di una colluttazione e non propriamente ad un'azione di offesa. L'avvocato Gerardo Santamaria, difensore di parte civile, ha concentrato le sue domande al perito sulla posizione delle ferite sul corpo di Bembo, sottolineando che queste erano presenti anche sulla schiena della vittima. Gli avvocati Gaetano Offiero e Stefano Vozzella hanno messo in evidenza la provenienza delle conclusioni del medico. La prossima udienza è attesa per l'11 dicembre 2024, quella successiva invece è attesa per il 15 gennaio 2025.